Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video Tornati sulla nostra serie Minecraft ad obiettivi Ragazzi prima di iniziare dicendo appunto i vostri obiettivi Volevo dirvi una cosa, ci sono rimasto un po' come a Luccio per una piccola cosa Un piccolo dettaglio, ossia il video ha fatto soltanto 82 views Quindi vuol dire che pochi sul canale sono minimamente interessati Però ha fatto 18 like e per ora ho deciso di portare avanti la serie Però se volete che la porti ancora avanti cerchiamo di raggiungere i 20 like Ragazzi so che queste richieste di like non tanto vi piacciono però E' un modo per capire se vi piace il tutto ciò Allora ragazzi prima cosa Altro anticipo prima degli obiettivi volevo dire che La bacheca la farò off camera Mentre in questo episodio diremo solo gli obiettivi con i vostri screen Se riesco a metterli ma spero di si Detto questo ragazzi cominciamo col primo obiettivo Di Michael Hu Che mi dice A stag obiettivo crea una miniera Quindi penso proprio crea una miniera fatta da te E vabbè raga Si può fare fino a qui ci siamo E vabbè si può provare a fare qualcosa Stefan Kordic mi scrive A stag obiettivo Fai una scultura in oro Esmeraldi Esmeraldi lo detta la romana Per la patata Adesso non so cosa intendi tu Se devo fare una scultura a forma di patate Però credo proprio che sia quello Il prossimo obiettivo sempre di Stefan Kordic che dice Fai una zappa di diamante E un piccone di diamante Butti il piccone e lasci la zappa Quindi Devo buttare il piccone Maravan Queste cose sono proprio contro DB Un altro obiettivo di Stefan Trova 7 esmeraldi In un episodio E poi buttali Vabbè raga Poi questo obiettivo Magari ce lo giochiamo a favore nostro Magari non un episodio Ma più episodi Obiettivo difficile di chicca Attenzione Trovare buon Ah vabbè diceva Bioma Perché sia corretta Trovare bioma dei funghi E portare a casa Almeno una mucca fungosa Ricompensa 10 diamanti Se pensi che sia troppo esagerato Allora trova Funghi E fa una forma di funghi Ricompensa 5 diamanti Vabbè raga Mi sembra ovvio Credo che questo qua Lo proverò da fare Perché è davvero una sfida Wow wow Ciccio la freccia Obiettivo Uccidi 35 mob Durante un giorno Da quando ti svegli Dal letto Al giorno dopo Tutto in Minecraft Non nella vita reale Grazie ciccio freccia Per questo obiettivo Andiamo col prossimo Salvatore Shadow Che mi dice Rienti una cesta singola Di blocchi d'oro Un blocco a slot Quindi raga Questa qua Già si può fare Basta nerdare un po' E si riesce ad ottenere Quello che ci chiedono Prossimo Shark Dark Mi chiede Fai una pixel art Di una faccia Di un lupo Cioè ma Davvero fai shark Se tu credi Che ne sono capaci Ne sono orgoglioso Ma Intanto dormiamo che è meglio Ma raga davvero Credo che sia difficile Farlo Però ci possiamo provare Ci abbiamo tutto il tempo Del mondo Poi Francesco Fuccia Ossia Major Ciao Major Fai una farm Di polli Automatica Con molti polli E vabbè raga Ci sta Poi obiettivo di Joker 99 Rinibili una cesta Di cobblestone E questa ragazzi Può fare anche Tra i primi episodi Poi Dark Boy Mi dice Obiettivo Scrivere Luke 17 Puzza in diamante Eeeh Chissà Chissà Se si farà Un obiettivo Un po' contro di me Poi altro obiettivo Di Andrea Zang Obiettivo Scrivere Luke 17 Con un qualsiasi Blocco prezioso Redstone Lapis Eccetera Quindi ragazzi Alla fine Lo possiamo Accumulare Con l'obiettivo Di prima Adesso C'è un altro Archivement Keiko 74 Fai un 17 In diamante Ok Questo sempre Si può ricollegare A prima Vedete Questi obiettivi Sono collegati Va bene così David mi dice I primi tre diamanti Che trovi Devi buttarli Nella lava E nei commenti C'è gente Che gli dà supporto Poi Teleshow Mi dice anche lui Fai una casa Sotto terra E questo ragazzi Potrebbe esserci anche Al secondo episodio Cioè al prossimo Volevo dire Perché costruire Una casa sotto terra Dai non è difficile Luke Ce la puoi fare Mi incoraggio da solo E gli obiettivi di oggi Che mi avete scritto Ragazzi sono questi Se volete aggiungere Altri obiettivi Magari da persone diverse Ragazzi Ditemelo sotto Nei commenti Io spero Come ho detto prima Che vi piaccia questa serie So che il primo episodio Magari non può andare tanto bene Perché comunque Forse la curiosità è poca Però forse col passare del tempo Si va un pochettino meglio Di conseguenza ragazzi Questo video è durato poco Perché appunto Dovevo soltanto elencare Tutti gli obiettivi Spero che il video di oggi Vi sia piaciuto E in tal caso Lasciate like Mi raccomando Cerchiamo di arrivare a 20 like Commentate il video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo Alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti